Ecco un incontro con il leader della Lega Salvini a Roma, come è andato il capogruppo? Il 17 abbiamo fatto questo incontro a Roma e 200 consiglieri regionali da tutta Italia. Abbiamo una squadra di 200 persone che governano in molte regioni, come il popolo marchigiano sa, il Veneto, la Lombardia, la Liguria, il Piemonte, il Fioli Venezia Giulia, dove siamo naturalmente presenti e lì i miei colleghi consiglieri sono in maggioranza, qualcuno fa anche l'assessore. Questo incontro è stato senz'altro positivo, siamo usciti da un giorno di lavoro con qualcosa in più rispetto a prima, non solo nel contatto e nel conoscerci tra noi che fa parte di una squadra, fa parte di una famiglia come è la Lega e questo è senz'altro un elemento molto molto positivo. Poi c'è stato per quanto riguarda il contributo che gli assessori, che i consiglieri nelle altre regioni dove governano già da tantissimo tempo, noi abbiamo appreso e abbiamo cercato di apprendere questo messaggio positivo del governo delle regioni dove tra poco ci accingeremo alla competizione elettorale. E' naturalmente chiaro, come sa già tutto il popolo marchigiano, che noi siamo fortemente interessati al governo di questa regione Marche. Perché la vogliamo cambiare? Perché vogliamo dare più fiducia ai marchigiani? Perché vogliamo dare delle risposte più concrete, soprattutto per quanto riguarda il problema alle piccole e medie aziende che soffrono oramai da decenni in questa regione Marche dove il Partito Democratico da 25 anni sta facendo questo governo, sta facendo questo governo creando soprattutto dei problemi a questa economia, a questi piccoli imprenditori. Ma non solo questo, vogliamo cambiare proprio anche il problema della sanità delle Marche, anche se l'assessore dice che le liste d'attesa sono diminuite, ma non è vero niente, perché i cittadini quotidianamente si scontrano con la realtà e la realtà è molto diversa dagli annunci trionfalistici del Presidente. Anzi, una negatività che quotidianamente incontra i nostri concittadini.